E bello a tutti ragazzi benvenuti qui dal vostro velo, oggi siamo sempre qui con il nostro magico Torino Magico Torino col quale ci siamo lasciati con un super calciomercato finito un po' così, un po' storcendo il naso per quell'addio del capitano che ancora forse non è stato diciamo superato da tutto lo spogliatoio ma adesso abbiamo un episodio molto intenso perché abbiamo la partita in Coppa col Napoli, la partita con il Napoli in campionato che vediamo un po' come se giocare o meno ma penso che giocherò a tutte e due anche se mi dispiace di ripetere la partita due volte poi sicuro giocheremo col Svorsburg e vedremo magari di simulare con la Sampdoria adesso vediamo un attimo cosa riusciamo ad incastrare, magari anche qua abbiamo andato in ritorno ovviamente col Napoli tante partite, tante partite ma direi che possiamo partire subito con questo big match di Coppa Italia Coppa Italia che rimane un obiettivo fisso per noi, è importante da raggiungere quindi ci vediamo in campo ed eccoci qua, è tutto pronto, comincia Napoli-Torino, questo big match di Coppa Italia vediamo cosa ci saprà regalare anche perché questo Napoli ha cambiato molto ho visto che ha comprato anche Fekir oltre a Richarlinson là davanti quindi diciamo, begli acquisti da parte di questa squadra vediamo adesso subito qua che sale con Fabian che mette una bella palla per Insigne che ne metto dietro per Richarlinson che addirittura ci, dopo 4 minuti ci fa proprio pure, come posso dire ci sbeffeggia pure con questo alzatina senza senso di palla bene, bene, dopo 5 minuti prendere un gol ah ok ok, quindi mi state dicendo che sarà una di quelle bellissime partite dove subiremo tantissimo forse ma speriamo di no, adesso vediamo con Traorechi però si allunga troppo il pallone e recupera ancora il Napoli che ha avuto una partenza bella, bellissima anzi devo dire un gol dopo 5 minuti direi che ammazzi qualsiasi squadra adesso qua subito con Fekir prova a cercare il raddoppio, mamma mia Bennoisse, prova a vedere il movimento di Immobile, Immobile che se ne va bene a mano là si ferma, benissimo Immobile, niente non riesce a trovare ancora il suo primo gol con questa maglia Ciro è andato subito qua, attenzione, sempre ancora con Richarlinson ma Maxi Menko che riflessi, sarà calcio d'angolo attenzione, questo cross in mezzo, la palla arriva lì attenzione, attenzione, gol 2 a 0 niente, sono infermabili, chi era questo? un po' Fekir, infatti due nuovi acquisti, mi sa ci hanno punito era infermabile Fekir, poco da dire, 2 a 0 Napoli una partenza orribile è vero che ci sia andata in ritorno però puntiamo almeno a fare un goletto per diciamo non segnarci già un'uscita da questa competizione qua proviamo, ma nulla un Torino che oggi non è sceso in campo, mi sa attenzione qua, Insigne mette ancora per Richarlinson Fekir se ne va bene a Militao, mette una bella palla per Lozano, che, attenzione dietro, mamma mia Tomori attenzione, 3 a 0 3 a 0 Napoli dopo 34 minuti eh, regà, non so cosa dire niente, no, 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 no una di quelle partite Dominguez provo a metterla per immobile che provò un numero ma niente della crusta la bandierina cercare immobile di testa Manolas vigile come so dire con Kakashi che la mette per Borré che appoggia per Dominguez prova a muoversi bene, immobile niente Meret Meret calcio d'angolo ancora noi con Borré ancora una difesa perfetta calcio d'angolo sempre ma nulla non lo riusciamo proprio a scalfirli minimamente attenzione qua che bella questa palla Borré Borré deve fermarsi deve tornare anche indietro Borré prova a mettere questo bellissimo pallone per Dominguez che la mette per immobile che mamma mia lo scadere riesce a insaccare il suo primo gol Ciro prova a dare lui la carica il nuovo arrivato l'esperienza l'artiglio che graffia qua con questa sceneggiata riusciamo a fare un 3-1 dove c'è oggi oggettivamente poco da festeggiare perché la prestazione finale è stata pessima però dà comunque morale fare comunque il gol fuori casa può sempre aiutare è vero che siamo ancora sotto di tanto però diciamo che dobbiamo avere questo margine di miglioramento nel secondo tempo perché nel primo proprio non ci siamo stati proprio recupera un ottimo pallone può lanciare immobile immobile a tu per tu contro Mera immobile mamma mia che movimento perfetto immobile 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 e sono due adesso doppietta del nostro Ciro mamma mia qua che palla recuperata da Ben Asser che lancia un immobile tutto solo verso la porta con un Napoli che nonostante il super vantaggio continua a stare molto alta come a livello di squadra e qua immobile a tu per tu non può sbagliare ci aggrappiamo al nuovo arrivato al nuovo attaccante vediamo questo 3 a 2 mi dà già molto più morale anche perché mi stavo abbastanza deprimendo con un risultato del genere che è un po' inaspettato cioè per carità dal Napoli ci può stare però proprio prendere tre pere così senza un minimo di reazione non mi stava per nulla piacendo adesso siamo sul 3 a 2 vero il risultato che comunque ci vede in svantaggio ma ricordo della partita di ritorno che magari essendo in casa possiamo creare ancora qualcosa però qua c'è comunque questo Napoli che continua ancora attaccare qua recupera bene Cacace Dominguez deve amministrare lui vuole lanciare Ben Nasser scatenato in questa partita Ben Nasser Ben Nasser che la tiene di fisico attenzione qua Borré scambia bene con Immobile attenzione Borré ha lanciato anche lui a tu per tu con Mere Borré 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 mamma mia che rimonta 3 a 3 che palletta perfetta di Immobile ma che tiro del nostro nuovo capitano Borré mamma mia palla perfetta a fil di palo più che a fil di palo aiutati completamente forse dal palo molto fortunati anche qui all'ottantatreesimo si presenta una rimonta clamorosa mamma mia un secondo tempo veramente dominato da noi un Napoli che non capisco vi giuro il perché continui a giocare con un baricentro così alto qua attenzione che adesso siamo veramente gasati e possiamo anche provarla ad andare a vincere qua ancora Immobile prova lui aspetta il movimento di Ben Nasser mamma mia attenzione qua ma come stiamo giocando Ben Nasser Ben Nasser Ben Nasser nel momento più importante non riesce a buttarla dentro facciamo un cambio prova a mettere un po' di velocità con Doku attenzione qui ancora il calcio d'angolo proviamo ma nulla può ripartire il Napoli attenzione qua è il Napoli che cerca la beffa ma Militao fa un ottimo recupero e qua adesso spazza via Kaká vediamo se l'arbitro fischierà la fine si finisce qui 3 a 3 una partita veramente spaccata in due nel senso il primo tempo completamente dominato dal Napoli che infatti l'ha chiuso per 3 a 1 ma nel secondo tempo sono magari convinti già di avere in mano la partita hanno mollato completamente noi siamo riusciti ad acciuffare un pareggio molto molto importante e non hanno proprio senso attenzione qua addirittura il Bayer Monaco ci chiede Tomori ci dà Tolisso più 6 milioni ma Tomori non si muove perché è uno dei nostri perni difensivi non quanto Militao perché Militao è veramente illegale ma si dipende molto bene qua Dominguez ci ringrazia tutto noi diciamo che è un grande perché anche lui a centrocampo con Ben Nasser stanno facendo veramente i buchi e qua abbiamo di nuovo la partita con Napoli che vediamo sempre in casa c'è proprio partita fotocopia di prima vediamo se se riusciamo a creare una partita come magari migliore rispetto a quella della della Coppa Italia perché dobbiamo giocare tutti e due i tempi c'è la partita uguale a prima stavolta però il Napoli schiera Osimè nella davanti quindi non l'ha venduto cambia un po' quella che è la formazione e niente vi chiedo scusa se magari potete trovare noioso giocare due partite contro contro il Napoli tutte e due attaccate però oggettivamente non mi sentivo di simularla visto che comunque è il campionato e siamo tutti lì non vorrei perdere punti simulando inutilmente perché comunque queste sono partite che se simuli perdi tipo in maniera troppo scontata infatti qua subito rischiamo con Fekir attenzione qua numero di Dominguez possiamo ripartire Dominguez Dominguez può allargarla per Borré Borré che supera bene il difensore Immobile viene chiuso ma c'è Dominguez subito dietro che prova a rilanciare la palla rimane ancora lì attenzione Immobile prova ma niente portiere vigile forse c'è un fallo però di questo qua che penso sia Caletacar da quanto ho letto dal nome non è ah no è calcio di rigore calcio di rigore ma inaspettatissimo non pensavo e figurati figurati coi piedi la presa ci caghiamo il calcio di rigore ma regà non avendo l'audio vi ripeto molte volte non mi rendo conto di queste cose intanto qua della Cruz mamma mia come se n'è andato della Cruz e niente ci mangiamo un calcio di rigore perché non ero proprio pronto psicologicamente a batterlo perché non mi aspettavo un regalo del genere da parte dell'arbitro sincero io non ho visto nulla nell'intervento del difensore del Napoli però fatto sta che abbiamo sbagliato un altro calcio di rigore mamma mia regà Tomori che recupero di Tomori può andare con Ben Nasser che prova a girare con una palla bellissima alla ricerca della Cruz che c'è prova a saltarsi a Orier ci riesce lancia bene Dominguez che vede bene lì in mezzo c'era tutto solo immobile ma Dominguez ci mette un secolo prima di passarla a recuperare il Napoli attenzione là che vedo un bel buco per Traore però non ci potrà mai arrivare però vi consiglio sempre di guardarla alla mappina sotto perché certe volte non so innanzitutto qua visto che Mario Rui salendo molto molte volte lascia un Traore abbastanza libero però mi sa che comunque questo primo tempo finirà tra poco forse qua attenzione ho parlato troppo presto perché il Napoli sbaglia una palla abbastanza facile però qua noi siamo troppo lenti non riusciamo a ripartire in fretta e finisce il primo tempo 0 a 0 stavolta una partita molto più equilibrata rispetto a quella di Coppa Italia nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol nonostante le occasioni non siano mancate vediamo se nel secondo tempo si accende come si è accesa in Coppa Italia cambio nel Napoli esce Lozzano entra Correa attenzione qua con Peronoi con Ben Asser ma mamma mia che bello lo scambio della Cruz ma niente una difesa perfetta la loro oggi aspetta sempre si con Borreca aspetta sempre della Cruz attenzione bella mamma no vabbè no vabbè no vabbè uno schema guarda me l'ho pure impappinato con i nomi però questi due veramente sono uguali sembrano una persona sola ma qua Chakir con la testa regà con la testa l'ha presa non ho parole veramente attenzione calcio d'angolo c'è lì no io non ho parole regà non ho parole sono allibito in queste ultime due situazioni adesso qua proviamo con della Cruz mamma mia quando fa queste cose mi fa veramente eccitare adesso ho paura quando attacco il Napoli perché dopo le ultime due occasioni che ci siamo mangiati noi guarda guarda che devono segnarci loro guarda guarda FIFA guarda FIFA che magico gioco ma Maximenko oddio una prestazione oggi dei difese portieri veramente impeccabile oggettivamente non gli si può dire nulla a entrambe le fasi però noi comunque abbiamo creato molto di più rispetto a loro ma non riusciamo niente non riusciamo a chiudere proprio l'ultimo passaggio che ci porta in porta che ci porta in porta scusate il gioco di parole mi sa che questa partita finirà con un triste 0-0 dopo un 3-3 in Coppa Italia mi sa che abbiamo abbiamo dato tutto lì adesso l'arbitro fischierà la fine 0-0 è una partita deludente oggettivamente che dire non abbiamo fatto nulla ma solo alcune occasioni meglio il primo tempo devo dire da parte nostra loro non sono quasi mai arrivati in porta ok adesso arrivano le partite che contano siamo in Europa League spero che la squadra si riprenda per giocare anche perché non vorrei giocare con le riserve sinceramente però ho paura vorrei giocare con le riserve no si sono ripresi tutti ma abbiamo un giocatore indisponibile penso sia Pessina mi ricordo che sarà fatto espellere il genio della lampada di Aladino qua portiamoci dietro Voivoda portiamoci dietro Voivoda e direi che possiamo andare a giocare questa partita si torna in Europa si torna contro un Wolfsburg che spero non abbia una squadra devastante intanto Sisto comanda con dieci reti oddio fenomeno e che dire partita di andata dei sedicesimi di Europa League vediamo di non fare come in Coppa Italia perché anche se tre gol ci farebbero più che comodi però ci vediamo in campo ed eccoci qua comincia Wolfsburg Torino mamma mia ho visto la formazione diciamo che nomi Monster non ce ne sono però ho visto qualche giocatore bello baggatino attenzione però qua mamma mia mamma mia che palla subito dai un gol subito così voglio una bella partita in discesa sarà calcio d'angolo cerca di immobile ma esce bene il portiere ancora noi con direi che Tomori non è il primo migliore per andare a crossare invece della Cruz che però qua si addormente perde il pallone e recupera il Wolfsburg Wolfsburg parte sempre la Bacu ottimo lo scambio qui mamma mia Militao che intervento Militao l'ha fatto da solo io non ho controllato assolutamente niente perché se no se avessi fatto io era sicuro rigore ma assolutamente niente ancora De Ron De Ron chiaramente per Bogat attenzione qui Bogat che conosce la serie A ha fatto pure la rima sono un rapper attenzione niente addio chi è questo ciao su Ezio è quello illeggibile esterno del Wolfsburg qua guardate l'azione va bene va bene perdiamo palla in maniera oscena e Samuel lo chiameremo Samuel perché non so pronunciare assolutamente quel cognome ci firma l'1 a 0 Wolfsburg niente si sono scatenati raga si sono scatenati niente è come Napoli è come Napoli adesso ce ne fanno un altro magari e poi si addormentano e noi dobbiamo provare a recuperare lì ma nulla è proprio una partita fotocopia con Napoli le giocate di Dela Cruz Dela Cruz non mangiamoci anche queste cose vorrei subito dai raga una sveglia perché veramente oggi già sono stanco io in più ste partite proprio mi fanno salire un Cristo Redentore che è proprio incredibile ci prendiamo dei gol boh dominghes prova a cercare Dela Cruz bella la palla per lui Dela Cruz prova ad andarsene al terzino ci riesce Dela Cruz mette questo bellissimo pallone per vorrei che può metterla lì per immobile ma ovviamente i gesti di altruismo sono sempre puniti e infatti qua recuperano loro finisce il primo tempo un primo tempo veramente strano perché potevamo trovare il pareggio nel finale ma niente quando cerco di fare delle della carità verso tra i miei attaccanti ci devono ci devono sempre piazzare quindi adesso alla prossima tirerò sempre adesso in questo secondo tempo cosa può succedere qua Borré immobile che si ferma prova a rilanciare Borré mamma mia che gioco di gambe di Borré prova a metterla per Dominguez che ci arriva Dominguez a tu per tu Dominguez 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 che fa un appoggio perfetto e ce la rimonta raga io ve l'ho detto una partita come quella di Napoli vediamo però qua magari c'è più tempo riusciamo anche a passare in vantaggio oppure riusciamo anche a perderla non escludo nulla ma oggi FIFA sembra che proprio prima ti ti spana perché non puoi giocare poi ti concede qualcosa infatti qua il gesto di altruismo è stato fortunatamente accolto dal signore siamo riusciti a pareggiare questa partita comunque abbiamo subito nelle ultime tre partite cinque gol direi che qualcosa non funziona ancora a livello difensivo ma ormai non so più che fare perché gli schemi li ho fatti i giocatori comunque Tomori Militao non mi sembra una difesa che fa così schifo poi vabbè i terzini pure Cacace e Dalotto magari qua stiamo facendo un po' di stronzate perché decidono di non spazzare ma qua riusciamo comunque a recuperare a partire contro Re comunque vediamo un po' cosa succede adesso in questa partita mamma mia Dominguez veramente mi fa eccitare quando mette questi palloni e niente ovviamente adesso FIFA ha detto che essendo sul risultato di parità non possiamo più fare gol facili infatti il portiere qua fa un vero e proprio miracolo vediamo qui nel calcio d'angolo ma ancora nulla però c'è Traoré Traoré che carica la botta prende in pieno il difensore qua Militao Militao non tenere questo pallone che lo perdi infatti attenzione il Forsburg che adesso prova ma la difesa fino a loro perfetta tolto nel secondo tempo dico e qua può partire ancora Borré alla ricerca della sua tripletta Borré non devo fare l'altruista ma invece stavolta ci va bene doppio gesto di altruismo e Immobile firma il vantaggio Torino 3 a 2 Toro mamma mia che remunta da questa incredibile qua fortunatamente la palla è ottima Immobile da lì non può sbagliare e io ve l'ho detto ve l'ho detto ma io ormai lo conosco troppo bene questo gioco attenzione qui il Forsburg con giocate incredibili sta provando a trovare la beffa ma mi sa che deve farlo proprio con Samuel mamma mia Militao oddio e niente adesso ragazzi si sono risvegliati mi sa che deve finire in parità questa partita perché veramente stanno giocando in una maniera che sembrano infermabili infermabili altro calcio d'angolo niente devono 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 spazza via sta boccia ma meno male che arriva della Cruz oddio qua dai vorrei superalo 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 e finisce qui 3 a 2 torro una vera e propria impresa anche vista la partita di ritorno che ci permette di stare più tranquilli visti tre gol fatti fuori casa devo dire un'ottima partita ma faticata perché loro dopo il nostro terzo gol noi non siamo più riusciti a creare nulla loro ci stavano spaccando praticamente il sedere e meno male che siamo riusciti a tenere nonostante tutto e adesso abbiamo la partita qua con la Sampdoria che direi di andare a fare la simulata non quella veloce ma l'altra e se c'è bisogno ovviamente scendiamo in campo però mi sa che dovremo farlo perché devo giocare per forza con le riserve ma vediamo cosa ci saprà regolare anche questo match ed eccoci qua alla simulazione possiamo vedere le due formazioni di Sampdoria e Torino loro invece non leggo Gabbiadini quindi sono già un po' più tranquillo però qua partono subito cattivissimi no vi prego non segnateci nei primi minuti datemi almeno un attimo di riposo niente minzi cari rega ma ditemi nei commenti se non sono cioè quattro partite fotocopia nel senso prendiamo adesso ne prendiamo un altro poi magari questa la perdiamo però adesso ne prendiamo un altro e poi loro si spengono perché oggettivamente non creano più nulla e noi recuperiamo se anche questa partita è così oggi chi sta giocando a FIFA che oggi ormai vista la quarantena non so più manco che giorno sia succederà così a tutti perché mi sa che oggi FIFA meno nelle carriere sta comandando così non so proviamo a rompere l'algoritmo di FIFA con Aina Aina che prova l'ascesa Aina che prova l'ascesa attenzione non gli rimane dietro il terzino Aina prova mamma mia rega avevate proprio ragione schierarlo a di in questo caso non lo è ancora diventato devo ancora trasformarlo cioè deve ancora completare completamente la trasformazione ma è devastante non lo tiene nessuno è un trattore non i trattori però vanno lenti però mi piace dire trattore quindi lo definiamo così e riusciamo a pareggiare quindi l'algoritmo di FIFA sembra cambiato ovviamente dopo che faccio tutto lo spiegone loro devono prendermi per il sedere cambiare tutto qua adesso infatti provo a salire Voivoda addirittura Voivoda che però non si sa perché si ferma e passa dal centro per Salcedo Salcedo che vede il bel movimento di Adeyemi che si ferma col tiro a giro ma Audero stavolta dice di no attenzione qua bella la palla per Salcedo che prova mamma mia che scambio quando qua limite niente mamma mia al pelo riesce proprio a salvare sul tap in praticamente vincente di Adelaide qua può adesso ripartire la sampa attenzione Voivoda abbastanza avanzato non riesce a coprire su De Paoli De Paoli prova ad andare in chiusura Voivoda ma De Paoli se lo mangia a colazione l'Amte si addormenta meno male che il colpo di testa fa schifo infatti si dispera a Ranieri mamma mia che rischio qui e infatti proprio dopo quest'ultima azione finisce il primo tempo abbastanza movimentato noi abbiamo creato molto ma anche lì ci manca sempre quello che è il tap in e loro però sulle ripartenze sono praticamente letali infatti prevalentemente hanno creato situazioni di difficoltà sempre in ripartenze così un lancio passano sempre dalle fasce adesso la crosserà in mezzo alla ricerca di qualcuno ma vai a tutto recupera Van der Vort attenzione qua via Ira che è l'Icon oh mamma mia che no vabbè raga cosa ha fatto Benedetto chi è Benedetto vabbè qua regà Benedetto si è proprio c'è Fosumensà grande trasformazione grande acquisto tac Benedetto ce l'ho piazza lì dove non batte mai il sole mamma mia si è proprio al baretto tutti chapeau per Benedetto se ne qua la Samp che adesso è scesa in questo secondo tempo con molta più carica noi sembriamo ancora negli spogliatoi qua però ottimo il recupero di qua sì che prova adesso a lanciare un lancio abbastanza difficile per Adeyemi infatti recupera la Samp adesione qua Adelaide prova lui aspetta addirittura una palla bellissima per Aina mamma mia guarda lì in mezzo niente si sè ovunque ecco qua Adeyemi guarda lì il movimento perfetto di Pessina 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 quanto cavolo ci mette a tirare maledetto te sarà calcio d'angolo no niente regà e sono quelle partite dove adesso in una situazione di stallo da tro no vabbè mamma mia ma perché parlo perché parlo cioè sembra che io porto proprio sfiga a chiunque quello che dico io succede l'opposto stavo per dirvi non è successo niente per tipo 20 minuti dopo che hanno segnato loro e adesso guarda guardate qua che gol in tira fuori ad Adeyemi cioè senza senso un gol senza senso boh proprio il senza senso è la definizione di di questa partita adesso andiamo a provare a vincere sta partita che veramente sta alterando proprio in maniera indescrivibile qua Adeyemi 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 dritto per dritto Adeyemi 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 tutta a terra la Sampdoria di fronte a un un genio un prodigio un'eccellenza non so definitelo voi che buco clamoroso lasciato lì dalla difesa la Sampdoria che adesso è morta dopo il nostro pareggio e qua adesso pure dopo il nostro vantaggio mamma mia che botta di fortuna che ci voleva perché loro sì è vero stanno giocando cioè giocano così così poi la metà dei loro lanci era sempre fuori e quindi tempo oggettivamente perso qua però attenzione che rischiamo e è stato tutto così dopo il loro gol meno male che adesso è finita perché è una partita orribile in tutti i sensi nonostante sia finita 3 a 2 quindi voi direte una partita piena di emozioni no no se la giocavate non provate niente solo azioni no sense e gol non bellissimi però sa di fatto che siamo riusciti a portarcela a casa però comunque abbiamo preso di nuovo due gol quindi non mi sembra sembra un buon risultato ma a metà adesso nel prossimo episodio avremo il ritorno col Wolfsburg che ci vede comunque abbastanza favoriti perché facendo comunque un facendo un recap della situazione abbiamo pareggiato con Napoli 3 a 3 in Coppa Italia pareggiato in campionato 0 a 0 vinto col Wolfsburg fuori casa e vinto con la Samp fuori casa quindi risultati abbastanza utili nel prossimo episodio risfidiamo il Wolfsburg anche la Fiorentina nuovamente il Napoli per il ritorno di Coppa e il Milan quindi un episodio anche il prossimo bello pesante a livello di partite e che dire se l'episodio vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento scusa se magari oggi sono stato un po' più mogio ma ero un po' stanco però spero che l'episodio vi sia potuto piacere comunque condividete sempre il video seguitemi su Instagram e dal vostro bello è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella